Partecipazione, quartieri, istituzioni, dialogo. Queste le parole chiave del progetto Consigli dei quartieri di Varese, voluto dai giovani del PD, capitanati dai consiglieri Fisco e Pepe e affiancati dall'assessore alle politiche giovanili Francesca Strazi e dal consigliere PD Francesco Spatola. I consigli saranno 12 per un totale di 140 consiglieri coinvolti. Quelli sotto i 4.000 abitanti avranno 7 consiglieri, quelli tra i 4.000 e gli 8.000 abitanti avranno 11 consiglieri. Oltre gli 8.000 cittadini si passerà a 15 consiglieri. I consiglieri verranno eletti con un metodo che prevede che per il 70% siano scelti dal Consiglio Comunale e per il 30% sorteggiati da liste di cittadini. Ogni consigliere rimarrà in carica 5 anni. La novità sono proprio i consigli di quartiere che dopo la chiusura delle circoscrizioni nel 2011 hanno lasciato un vuoto nella città secondo me e noi abbiamo provato a intervenire costruendo un regolamento nuovo sui consigli di quartiere. Le novità sono tantissime ovviamente. Sono la nomina dei consiglieri di quartiere che può avvenire attraverso il Consiglio Comunale e attraverso il sorteggio che è sicuramente un unicum, credo, nel panorama italiano. Sono anche le funzioni che questi consigli di quartiere avranno per cui quello di segnalare, proporre, contribuire all'iniziativa amministrativa e le iniziative che porteremo avanti sono veramente tante quindi aspettiamo che il lavoro in commissione finisca che venga discusso, approvato in Consiglio Comunale e vedrete. E intanto in tutta la città, quartiere dopo quartiere, si accende il Natale. Quest'anno abbiamo investito 20.000 euro sul Natale nei quartieri promuovendo un bando che ha dato un esito direi estremamente positivo. Il nostro comune da nord a sud sarà animato da iniziative più svariate le tradizionali iniziative nelle parrocchie quindi con i mercatini piuttosto che eventi ludici fuori dalle scuole o ancora stagioni dell'arte quindi con mostre e stagione musicale quindi con concerti di varia natura nei nostri quartieri. Per non dimenticare il patrocinio a molte altre manifestazioni cittadine i tre concerti gospel previsti a Bregazzana, Cartabie e Mustonate e l'illuminazione a festa garantita in tutta la città.